Sono state delle giornate bellissime, l'incontro in classe con i ragazzi è stato entusiasmante, hanno partecipato alle nostre lezioni anche in modo propositivo e poi questa esperienza si è sconclusa con tutti nel migliore dei modi perché abbiamo fatto delle passeggiate indimenticabili. Nelle meravigliose foreste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a Badia Prataglia e veramente i ragazzi sono riusciti a capire l'importanza della circolarità della natura, della meraviglia che comunque la natura ci fa vedere, ci fa gustare, sentire, l'hanno sentita un po' con tutti i sensi in queste escursioni molto belle nelle nostre foreste.